Siamo con Thomas Manfredini, Thomas ti aspetta un dicembre molto intenso, ma quali sono i tuoi appuntamenti del mese? Allora, la prossima settimana ho tre appuntamenti abbastanza importanti, ero avvicinati, giovedì vado il trofeo delle regioni a Napoli, e venerdì la targa d'oro a Montegiorgio e poi domenica abbiamo la finale del trofeo Win for Life qua a Bologna. Sono tutte manifestazioni dove c'è un percorso dietro di qualificazione, sono stato così bravo e fortunato a qualificarmi, quindi spero veramente di fare bene e dare qualche soddisfazione, insomma anche il club qua è emiliano, vediamo, vediamo. Adesso sono tutte a sorteggio, speriamo di avere anche fortuna. Bene, sicuramente ti seguiremo, in questi giorni abbiamo anche ripercorso un po' qual è stato il tuo percorso, sia di calciatore sia poi di gentleman driver, ma una cosa noi ti abbiamo chiesto, qual è tra tutti il tuo cavallo del cuore? Il mio cavallo del cuore è Emmanuel Kant, un cavallo che era allenato da Mario Rivara, un mio grande amico anche di famiglia, e l'abbiamo preso qua proprio a un'asta fatta qui all'ipomento di Bologna con cavalli anziani che erano così messi in vendita proprio. L'abbiamo preso e da lì gli abbiamo dato la sua seconda giovinezza, abbiamo avuto tante soddisfazioni, ho vinto tante tris, ho vinto tanti centrali e poi, anzi, lui mi ha fatto vincere la mia prima gara da gentleman, quindi è una cosa in più e lui dà insomma il cavallo del cuore. Bene, il netto Thomas Manfredini, io mi invito sempre a seguire i canali dell'Ippodromo di Bologna.